Perci una foto a chi sta preparando, vedi? Perci una foto a chi? Non puoi, non puoi Da chi? E io devo parlare a Angu Ma si faceva la foto La foto? Tu hai detto fammi la foto Mastro Peppi da Brunia, Peppi Calabria e tutta la compagnia Dono un saluto con una sballa e un gran cornuto Tony farci vedere com'è follo 气 Sembra Casper Sembra Casper Sembra Inpegnato Peppi a bucare la poltrona Per piu.. non pu' caricare la peltona Ma ti ti hai vomitato l'altra sera Antonia? ma che succede? racconta il ciotto ma perchè ti sei vomitato? perchè ti sei vomitato? non hai fatto niente non hai fatto niente ma che succede? stai zitto si vuole che ci sistemo al divano oh comunque ci vuole una volta quando te ne ci vuole a 29 scenderà poco ma come dici tu? ma il 28 perchè devi sistemare la casa ma che cazzo vuoi?